Art Bonus, fare il mecenate conviene, questo è il tema di un convegno organizzato dall'AREC Campania che si è svolto oggi a Ischia. Abbiamo con noi il Presidente Cappello al quale chiedo proprio qual è l'argomento di oggi, investire in arte, che cosa significa? Investire in arte significa investire nelle cose belle e quindi in particolare nella cultura. Io credo che la cultura deve essere sempre al centro di tutte le iniziative e poi l'AREC, come lei diceva, è l'associazione degli ex consiglieri regionali che dedica una serie di impegni proprio sulle problematiche più attuali e rivolta soprattutto ai giovani questo tipo di indicazione. è la sede e io credo che Ischia è la sede ideale per queste cose, per quello che rappresenta, per quello che ha, per quello che è e anche perché riteniamo che Ischia è una delle perle della nostra campagna e quindi certamente va valorizzata. Chiaramente tutte le iniziative, arte, cultura, sono finalizzate ad un solo obiettivo, il turismo, il rilancio del turismo. In questo momento di crisi c'è opportunità sicuramente, c'è necessità di un rilancio, in questo senso anche per Ischia? Certamente, Ischia dopo i drammi che ci sono stati negli ultimi tempi certamente ha bisogno di un rilancio e anche questa potrebbe essere una piccolissima iniziativa per rilanciare appunto il turismo qui a Ischia. L'importanza di un convegno come questo, tra l'altro c'erano tanti ragazzi in sala. Sì, proprio questo aspetto è stato tra i vari aspetti sottolineati nel mio saluto iniziale. È bello vedere una platea piena zeppa di giovani ai quali oggi sicuramente saranno prospettate delle conoscenze, delle nozioni che avranno sicuramente una loro utilità nel corso della vita, i giovani rappresentano il futuro. È stata una bella cosa perché ha testimoniato come delle personalità che hanno svolto dei ruoli di primo piano nell'ambito della politica regionale, anche oggi che non rivestono più incarichi istituzionali, hanno ancora e hanno conservato ancora quella passione per potersi mettere a servizio della collettività. E oggi il loro sforzo è stato quello di organizzare questo convegno nel corso del quale rappresenteranno, andranno a tratteggiare gli aspetti positivi di questa legge che consente di mettere a disposizione della cultura di ulteriori fondi rispetto ai pochi esigui che purtroppo in generale la pubblica amministrazione riesce a riservare. Oggi investire in cultura è fondamentale perché investire in cultura significa investire in una identità ed è bello riuscire a conservare, a tramandare le nostre identità. Pertanto quanto viene investito è sempre poco e quindi quanto più si riesce a fare è sempre meglio e maggiormente si finisce per investire nel futuro. Pertanto quanto viene investito,